Ciao a tutti ragazzi io sono un nuovo youtuber mi chiamo Samy300 io sono insieme a un mio amico che si chiama Ares che il suo canale è terribile quindi ci beggio bello e allora lui ha colto normale e io invece ho colto e no io ho colto normale e lui ho colto fuori legge che sarebbe se lo vuoi un nuovo skin dal nuovo aggiornamento se lo scuocco avendo 500 punti stellari a me ne ha dato il mio amico a 300 se non avete ancora aggiornato Bluestars fatelo subito perché ci sono veramente delle cose bellissime allora intanto la grafica del negozio è migliorata guardate come è poi abbiamo un nuovo bluore che di sicuro conoscerete che si chiama Stick che si chiama e che si ottiene a 4000 coppe ok al posto di bando alle ciance e mettiamo un bluore allora io metto il bluore con il bluore io ci vivo con il bluore lo vuoi metterlo come sfondo e lo vuoi metto il bluore come faccia? io proprio metto bibi allora mettiamo oh sei tu quando hai eh tu poi mi entra ah oh non si dicono parolacce davanti magari anche i bimbi piccoli ma è il primo sapessi quanto youtube mi dicono? attacco sarà una non ha non è vero ci vado a tim ho visto una tarra vi attacco? no no ma no, dove è andata? è la, è la scrivo l'occhio mistica è bellissima stata io ce l'ho Alex non ce l'ha dopo la metterò voglio troppo, non l'ho ancora vista ma sta, è più lento del sol oh 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 scusa oh ma si può mettere qua dentro? anche può dove è eliminato? tanto posso tagliarmi questo pezzo no? oh 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 vabbè allora noi siamo qui putglow oh guarda quanti la doggia getta mia beh sei certo? si guarda quanti la doggia getta mia 484 Dove sono io? Dove sono io? Ah, aspetta, aspetta, è vero, è vero! Allora, vediamo se c'è qui No, ma dai! 50! 20! Dai, dai! Andiamo da un'altra parte Che sono loro? Non lo so passiamo No, guarda, è la balla da spiaggia! Eh, io l'avevo già vista, è bellissima Oh, oh, balla io! Oh, no, 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 no Dove era sta balla? No, non ballo! Sì! E che l'ho fatto? Ah, grazie! Io ho fatto otto gol, scusi Non mi sono fatto otto gol C'è? Non faccio fare niente Qua c'è di mille Bene! Puoi uccidi Ares Andiamo ad ammazzarmi Vai! E salvatemi da sta rosa! Vai! No! Io l'avevo tirata giusta! Non è giusto! Oh! Oddio! 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 ste qua mi attaccano mi kemperò.. Così mi va dando un po' di vita dai andiamo ad ammazzare i tu ah! no dai che fai che pappole oh un giudettino che pappole che c'è no! che pappole butta la palla in su no 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 va beh l'hanno presa la loro forza ora va non ci sono adesso no no! che è? che è? che pappa in schienno? il mio... è qui è il mio qui? è. abbiamo… Abbiamo perso 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 E fate gol, tanto abbiamo perso Oh, 10 Oh, vinci, vinci, vinci A me 10 Ma che salverai, che te ne dà tante Anche io avevo tanta conti Cosa hai trovato, un piede? Io ne ho sei, aspetta, aspetta, c'è pezzo No, dai, che è un gioco Eh, vabbè, vabbè Io metto il rosso No, voglio vedere Tara Aiuto Ma, guarda che rumore fa Prima non faceva rumore Era zitta, zitta Ok, neanche adesso fa No, hanno fatto rumore Però prima ho sentito Ha fatto Uuuuuh Sì, giuro Ha fatto Uuuuuh Come il vento Sì, giuro Sì, io lo so So che vuole Sì, giuro E riva anche di più Oh, e farò anche più danno Ehi, poi io Non vedevo colpo Che non ce l'ha No, fa danno uguale Vabbè, mi piace di più No Eh, madonna Sam Vai 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 Samu, Samu Vai via, vai via Vai via Perchè Sì, giù va va non è basta facciamo no fanico che vuol dire basta esco dalla squadra e poi dice a me di non dire farlo accesso ma però io non ho la voce l'hai scritta almeno se la dico i bambini cioè almeno non sanno niente ma se la scrivi proprio la scrivano magari in italiano la fichetta aiuto Gianni Rosa eh cosa l'ha? se stiamo insieme li ammazziamo tutti il bombardino fa tutto dai dove questo vai è grande è grande è addirittura grande non ci vuole tanta ducidere un bambino piccola bomba non ci vuole con il rosso faccio il primo con il rosso faccio di dietro dai dai calabaziano tu colpisce la no non ce la facciamo non ce la facciamo non ce la facciamo non ce la facciamo ma avete detto più di due ma hanno aumentato le coppe no no nel senso una volta se arrivavi terzo se ne davano più una 27 brawlers fa anche quello eh però sebraciucca sebraciucca così sentite no sebraciucca 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 hanno una grafica migliore si? si guardali guarda guarda spike no vabbè spike guarda Tara vabbè guarda Tara è molto più è molto più in tutto è più bello ha una grafica migliore si scrivete nei commenti se anche voi pensate che abbia una grafica migliore ma è Frank questo guarda guarda manca Frank ho un altro rumore si si ma non lo facevo anche prima bb 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 c'è no no non parlava scrivete nei commenti se vediamo Leon no non ma ma ora non non parlava no aspetta ah pensavo fosse stato vero non avevo fatto buccizzo l'avevo selezionata dai aspetta spike non parlava e neanche adesso wow parlava ha detto un altro cosa ha detto qualcosa sulla notte io provo io provo io provo sto qua no sto qua no dai poi esco te lo farò vedere ai miei eh quelli che mi seguono se mi seguono secondo te quanti escono 4 0 ok quanti no secondo te secondo te sono truccato io e vedo io ho fatto una prigione e non vi ho letto like no no allora sembra che era uno di dei tuoi di boh 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 eh si e poi guardate questo però l'unica l'unica negativa è che sta a fare che sembra un po' da pallone su mario si tira si tira troppo un vicino allora ti metti vabbè io ciao io ando lì che c'ho voi che c'è vengo anch'io io io sì perché dopo laga 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 no no è bruttissimo quando l'hai visto ma guarda a me non mi va mangiare a me sì vieni vieni che vi è stata una casa che stupida che stupida che stupida due casse non le prendono che stupida e poi hanno ammazzato anche l'ho che l'ha ammazzato te te l'hai ammazzato che 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 è che che c'è un che è che